No, you'll never be alone When darkness comes out like the night When it starts in a whisper in the door No, you'll never be alone Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 225 con un nuovo episodio del Signore degli Aneli e la battaglia per la terra di Mezzo One Siamo, abbiamo come tutto una bella battaglia a Kai Andros nello scorso episodio e adesso possiamo scegliere se combattere con Rohan o Gondor Tu farei un breve ritorno a Rohan perché dobbiamo risistemare quell'esercito che avevamo utilizzato in precedenza Eh sì Galado, adesso le salviamo Scegliere l'esercito di Rohan perché il semplice fatto è che come vedete abbiamo 65 arcieri 30 popolani e 25 cavalieri Roirim Al momento i cavalieri Roirim ci servono davvero a poco Cioè, non i cavalieri Roirim, gli arcieri ci servono davvero a poco Quindi, allora, più 20% risorse potrebbe essere utile Più 20 di comando Più 20 di comando e più 10 di risorse Attacchiamo l'Isfalda L'Isfalda Grande Isfalda Andiamo in Isfalda dopo aver liberato l'Oversfalda Sentiamo cosa da dirci Galadriel L'Estfalda di Rohan è sotto il dominio di Eomer Terzo maresciallo del Riddermark in nome del re Le sue terre non devono cedere alle tenebre Perfetto, quindi il governatore di questa terra è Eomer Distruggi tutte le forze di Isengard Isengard, wow che bell'esercito però che abbiamo Accampiamoci qui Accampiamoci qua Molto bene Isengard arriverà fra 9 minuti Oh signore Ho scelto l'unica missione in cui In cui non dobbiamo produrre Eroerim Facciamo due fattorie Allora selezioniamo gli arcei Frecce pronte Muoversi Terrei qualche elfo di riserva Non attiriamo l'attenzione Pronti Fattorie pronte Rielfici vai I popolari li mandiamo I popolari li mandiamo a morire Ma vai tranquillo che non ci sono nessun orchetto Quali sono gli obiettivi di questa missione? Acquista tre corazzi Vedo ce l'abbiamo già Aumenta di livello di tre battaglioni Distruggi tutti gli accampamenti del male Va bene Siamo gente forte C'è praticamente abbiamo solo elfi qua Alla fine Attenzione al nemico Siamo gli elfi Facciamo presto Facciamo presto E guardi arcieri reali Cosa sta Cosa è sto rumore Ho sentito Ma non lo voglio sapere Qua ci sono Al cavallo Arcieri a cavallo Facciamo morire anche questi va Quanti abbiamo qua? Due E due Va bene così Facciamo morire sta gente Lì hanno bisogno di noi Vai tranquillo Costruisci una scuderia Dov'è? Scuderia di ro Oh misericordia Chiudete subito il cancello Oh misericordia Forse avrei dovuto salvare Gli arcieri Immediatamente Si può fare Un'uscita di sicurezza Sì Facciamola Montate Vai Tu Pipino Ti metti qua Ok abbiamo perso Un bel po' di pop cap Roly rimane accolta Sarete il gruppo Da 6 numero 1 Dovete ucciderli Portate il vostro culo peloso qua Vai tranquillo Adesso usiamo i ro Ok Costruisci un aggiornamento Standardo Più 100 Torre da battaglia Ok andiamo Oh misericordia Potete Potete torre Tornare dentro Alla svelta Tornate immediatamente Dentro Facciamo un Cosa di cura Nel frattempo Reclutiamo Altri Roly rim Non possiamo farne altri Ma quanto meno Li stiamo eliminando Abbastanza facilmente Con gli arcieri Ottimo Ok quanto meno Li stiamo distruggendo Facilmente anche Forse avrei dovuto Conservare Altri elfi Poi possiamo chiamarli No possiamo Chiamarli Non abbiamo nessun potere Oltretutto A poter fare Forse questo Gandalf che non è qua Quindi non lo farei adesso Siamo pronti a cavalcare Allora mettere Un malus Per loro Vai Poi cosa abbiamo risorse Facciamo altri Cavalieri Di Roan Quanto costano I Roan 540 Una barcata di soldi Costano Poi dobbiamo fare La scuderia Ok Reselezioniamo tutti Lasciamoli venire avanti La fattoria è pronta Affrettiamoci Affrettiamoci Uomini No Pipino però Bravo Pipino Tu sei il numero 2 E vieni Qua sopra Ti metti l'attacco Con le pietre La tenebra ricopre Le nostre terre Affrettiamoci Manteniamo sicure Le nostre terre Dobbiamo fare un giro Manteniamo sicure Le nostre terre Via Madonna come tiraspo Grazie Ci hanno deriso Troppo a lungo Ci hanno deriso Troppo a lungo Dai facciamo strada Muori Via Cavalchiamo Oh Perfetto Quello che volevo Un branco di orchetti da Mamma mia Come li raspiamo via Unukai Cavalchiamo Quello decisamente è il nemico Che è via Staviamo insieme le spade Ma vai a cacare Distruggete tutto Morte Ok Perfetto Roirim E anche voi Bravi Venite qua A farvi curare Facciamo un altro Roirim Qua facciamo L'armeria Dov'è Armeria di Roan Dove Oh Salve Morta Tutti quanti Nemici Venite qua dentro Dobbiamo Unire altri Dobbiamo unire altri uomini Alle nostre fila Qua è una torre Facciamo una torre Facciamo una torre qua Va Ok Yuhuuu Perfetto Purati di tutti quanti Altri poderosi Roirim in arrivo Ok A me A me Amici miei Potremmo fare una fatteria Qua Potremmo fare anche gli arcieri Quasi quasi Unità vicine Non penso ci interessi più di tanto Facciamo attenzione Facciamo attenzione Facciamo attenzione Ok abbiamo altri Roirim Siamo pronti a cavalcare Credo che quello sia il nemico No ho sbagliato No 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 Che non arrivano manco a combatterci Che questo sia il momento In cui combattiamo insieme Dove come è che questi qua sono Sono venuti lì Non lo so Non voglio saperlo Venite qua Ah Ok Dentro Tutti dentro Spero bastino Questi arcieri Oh si che dovevo Oh no Merda Questi qua sono Inesperti Al castello Presto Al castello Presto Dobbiamo fare anche qualche arciere Vabbè tanto Finchè arrivano così Muoiono proprio Vai vai morite Oh ci rimane Ecco perché È perfetto Se vengono qua è perfetto Perché il tempo che arrivano Li uccido tutti E Eomer si fa anche esperienza Così Eomer si fa anche esperienza Mettiamo Mettiamo gli eroi qua fuori Così devono passare tutte le torri Qua che abbiamo Ed è perfetto Vorrei fare gli aggiornamenti anche Perfetto abbiamo aggiornato le scuderie Aggiornamento scudi a cavallo Lo vorrei fare Sì sì facciamo attenzione Allora venite Così qua Anche se prendo un'altra esperienza Non c'è problema Nel frattempo Fare l'aggiornamento scudi a cavallo Però il nemico c'è addosso Sono abbastanza inutili Vai venite Venite Cioè sal L'intelligenza artificiale Che qua c'è un Un soggettino Un Ci sono dei nemici da combattere E vengono fino a qua Gli scudi per i cavalieri sono pronti A sto punto farei qua Un'altra fattoria In modo tale da avere un sacco di risorse Ok Scudi a torri qua ce li hanno già Probabilmente mancano le risorse Ecco la nuova fattoria I clienti non arrivano nemmeno Ok Prendiamo tutti La prendiamo tutti questi Li mettiamo qua Andiamo a fare un po' di man bassa Ok 300 su 300 Mi sembra una buona composizione Come esercito Questa Tab numero 1 Non è rimasto nessuno dentro No Perfetto Ok farei un altro bosco No aspettiamo a farlo Venghi il nemico Venghi Tanto farei le corazze Non si possono fare lame temprate Perché non vengono? Ah si stanno ammonticchiando eh Mortee Merda, venite qua Via, 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 via Via, via La corazza pesante è pronta E non voglio perdere neanche un uomo Tanto qua gli arciari non stanno facendo nulla Aspettiamo che si curino Se io seleziono così dovrebbe... no Devo fare la corazza a quelli che non ce l'hanno perché sennò è la fine Perfetto, andiamo a caccia di orchetti Oh madonna! Cavalieri sulle mura Dannatamente OP Ok Attacchiamo i mostri Guarda, anche quello è sopravvissuto Portiamo tutto il nostro esercito qua La meta in prata a questo punto non le farei Non servono a nulla Visto che arrivano sempre di là Noi rim Che altro non posso avere le frecce infuocate Per quelli che mancano Pipino Ok Se gli arciari però dovrebbero Non capiscono che devono Venire qua fuori Venite qua Fai così Vieni qua Bisogna dirglielo manualmente Se no non ci arriva Si va! In alto lo standard di Ron Ok, sono tutte risorse extra Si però potete scendere Si sono buggati questi Non posso usarli Vediamo se riesco a falliscende Non riesco a falliscende Ok, facciamo così Vai, tanto abbiamo gli arcieri Dovrebbero bastare Eccoli qua gli warg Da dove arrivano A morte Creature malvagie Questi sono scesi Ma che Che cazzo hanno fatto a salire Sono buggati Vabbè A morte Creature malvagie Creature malvagie Vai tranquilla Che Ron non cadrà Attaccate questi Dovrei distruggere Ok, distruggere questo Vai vai Cacciateli Però questi qua Non vengono Cioè abbiamo mezzo esercito Qua a fare nulla Vabbè Anche qua Wow Salve Ok, distruggete quello Via Morite Morite Ok Qua adesso ci facciamo Ci facciamo Un nostro accampamento Qua Vabbè Dovremmo finire La missione Senza Ulteriori uomini Mettiamoli tutti qua Qua facciamo solo Torri di combattimento Se si può Dovrebbero bastare Comunque Allora facciamo Questi qua Diventano il numero Uno Mettiamo sicura Le nostre terre In guardia Bisogna fargli L'aggiornamento Stendardo C'è qualcuno Che non ha L'aggiornamento Siamo pronti L'aggiornamento Stendardo In guardia In oltre lo stendardo Di Roan In oltre lo stendardo Di Roan Ok anche qua C'è qualcuno Che non ha Stendardi Stendardo Ah si che c'erano Le lame temperate Facciamo ste lame temperate Per cortesia Mi ero sbagliato Gli elfi sono pronti Forse avrò Comunque avremmo dovuto Avremmo fatto anche Sì Abbiamo fatto Tutti gli obiettivi Secondari Qua facciamo Fattoria Fattoria E ancora Una fattoria Uh Cavalieri Del ridermark Uh Cavalchiamo rapidi Ma ho accorto Avanti Andiamo Andiamo E nuove lame Ammazza famiglia Spacco bottiglia Con la tua lama Le nuove lame Sono pronte Cavalieri Del mar Ok Qua lame Quale lame Le hanno Qua no O forse si le hanno Perfetto Cavalieri Del ridermark Cavalieri Vabbè Va bene così Sono tutti lì Abbiamo preso tutto Ne va a cercare Altri Orchetti Da distruggere Dove Dove Oh si Cacciamoli Cacciamoli Distruggiamoli Voi non avete Le lame Temprate Oh Deve resistere Messe abbastanza Bastardi Oh Questi sono potenti Occhio Hanno parecchie frecce Distruggeteli Abbiamo fatto altre fattorie Ok Qua hanno tutti Le lame Temprate Ti aggiornamenti In guardia In guardia Cavalieri Del mare Ok Perfetto Qua In guardia Grazia pesante Facciamo risorse Proprio in modo Industriale Facciamo attenzione Oh Salve Manteniamo sicure Le nostre terre Perché c'è un insediamento Dentro qua Così lasciato Senza nulla Poi Vabbè Non faranno mai più ritorno Che scommetto Che c'è ancora Quell'insediamento Che avevo distrutto prima Andiamo a cercarlo Farò strada Ah Esatto In guardia Perfetto Perfetto Prendiamo questi Li disolgiamo qua Ok Grazie Penso che il nemico Non abbia più Non ha Oh abbiamo vinto Ottimo 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 I valorosi guerrieri Hanno spazzato via Le forze del mare Vabbè Pensavo fosse più difficile Sinceramente A parte il bug Che non ci ha permesso Di avere tutti i soldati A disposizione Per il resto È andato tutto Per il meglio Vittoria Statistica di battaglia GG Tutti sono saliti Tranne Mary Vittoria totale Più 20 di comando E più 10 di resource Quindi potremmo anche Volendo arruolare Altra gente Wow Questo battaglione di Roy Ha fatto proprio Poche vittime Una fatta Questa è Mary Da Moria Oversfalda Fosso di Elm Ok abbiamo fatto fuori Un po' di arcieri Che non ci interessavano E via E anche l'oversfalda E L'esfalda Scusate L'esfalda è tenuta Un cazzo mi chiedeva Se questo è il moltiplicatore De Prossimo episodio Oz Gilead Comunque Un ragazzo mi chiedeva Se questo fosse il moltiplicatore Quello che velocizzerà il tempo Ma semplicemente Il moltiplicatore Delle risorse Ovvero quanto velocemente Ottieni risorse Durante la partita Comunque Nel prossimo episodio Dovremo attaccare Oz Gilead Come al solito Se vi è piaciuto Mettete mi piace Condividete Vi saluto al prossimo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501